Cosa è l'edema di reenche? L'edema di reenche, o cordite polipoide, è irritazione o infiammazione delle corde vocali. Le persone che hanno l'edema di reenche hanno spesso voci profonde e aspre. I medici curano il problema raccomandando cambiamenti nello stile di vita o procedure chirurgiche. Le corde vocali sono i tessuti all'interno della gola che si muovono a seconda di ciò che sta facendo l'altoparlante. La lamina propria ha una sezione a tre strati di tessuto all'interno della piega vocale. Lo strato superiore della lamina propria è chiamato spazio di reenche. Questo strato superiore sciolto vibra sugli strati inferiori. L'edema di reenche si verifica quando i liquidi si accumulano in quest'area delle corde vocali. Questa condizione si verifica spesso nei fumatori o nelle persone che soffrono di disturbi da reflusso gastrico. Non è canceroso o precanceroso, ma il gonfiore potrebbe alterare la respirazione. Questa condizione può anche esacerbare i sintomi dell'atnea del sonno, che è un disturbo che causa i pazienti di interrompere periodicamente la respirazione durante il sonno. I tessuti delle corde vocali si gonfiano di liquido, che li fa vibrare di meno. La voce del paziente assume un tono più basso e potrebbe diventare ruvida o gravida a causa del gonfiore cronico. Anche se spesso si verifica negli uomini, è più evidente nelle donne di mezza età che hanno fumato per molti anni. Il gonfiore all'interno delle corde vocali non è sempre coerente su entrambi i lati. Un lato potrebbe essere notevolmente più infiammato dell'altro. Il liquido all'interno dei tessuti diventa sempre più gelatinoso ma a mano che la malattia progredisce potrebbe trasformarsi in pulipi vocali in alcuni individui. Un medico può diagnosticare la condizione eseguendo una visita medica completa. Lui o lei condurrà un esame fisico e richiederà informazioni sulla storia clinica del paziente e sul suo background. Il medico eseguirà un'endoscopia, una procedura in cui inserisce un tubo flessibile lungo e sottile con una piccola videocamera in bocca. Il medico potrebbe anche richiedere altri esami di laboratorio necessari per effettuare una diagnosi accurata. Il medico potrebbe raccomandare logopedia per aiutare il paziente a rafforzare le sue corde vocali. Se il problema del paziente è causato da reflusso gastrico, il medico prescriverà farmaci antiretrovirali o altri farmaci necessari per tenere sotto controllo il reflusso. Molti casi di edema di reenche si risolvono dopo l'intervento chirurgico. L'edema di reenche è la prova di gravi danni alle corde vocali. Questa condizione a volte migliore da sola se il paziente smette di fumare. Molti medici non opereranno fino a quando il paziente non smetterà di fumare, poiché è probabile che la condizione ritorni dopo l'intervento chirurgico se il paziente continua a fumare.